Parlando dell'impatto sociale, mi viene in mente che è uno stadio aperto, immagina se fosse aperto 7 giorni alla settimana, 24 al giorno, uffici, palestre, tanti eventi, 85 quest'anno, più attività aggiuntive all'interno del parco, dal punto di vista sociale il nostro scopo, il nostro progetto è farlo aperto, farlo pubblico, non solo durante i grandi eventi e devo dire che da questo punto di vista stiamo facendo bene. Tecnologia e sostenibilità, energia e acqua fondamentali, consumiamo tanta energia, gli eventi sono caratterizzati da picchi, quindi l'Arena è un grande esempio, produrre e conservare l'energia per utilizzarla in seguito, una grande opportunità che è il segreto di sostenibilità è l'opportunità di avere diverse attività, diversi uffici, siamo una piccola città all'interno dello stadio, dobbiamo produrre, vendere e distribuire per far sì che l'investimento diventi sostenibile, abbiamo una certa area a disposizione per farlo.